20 febbraio 2011, sono le ore 10, ci troviamo a Via Roma allora, come possiamo notare dalle immagini le condizioni in cui si trova in un manto stradale in fondo è Via Luca Giordano e di mattina faccio anche un appuntamento con un cittadino della zona e possiamo notare le condizioni della strada ciao Gado, aspetta un attimo no no, fai la tua cosa che fai no no, posso? no no, fai la tua cosa